Dovrei spendere tutti i miei soldi per fargli fare l'avvocato, se ci riesce poi, ma lo volete capire che mia moglie è morta e lui è l'unico figlio che ho, l'unica cosa che mi è rimasta e deve aiutarmi con le pecore, altrimenti addio al suo futuro. Ma così non lo aiuti. Grazie.